Migranti e ONG Migranti e ONG, PRC, minniti come Meloni e Salvini A GEMPRES. Maurizio Acerbo e Stefano Gallieni, segretario nazionale responsabile Movimenti, Pace ed Immigrazione di Rifondazione Comunista Sinistra Europea, dichiarano. La scelta che condividiamo pienamente di alcune ONG, come MSF, di non firmare il regolamento con cui si intende rendere difficoltoso alle navi umanitarie e salvare le persone in mare, ha procurato reazioni simili fra forze politiche che si dichiarano diverse. Il ministro Minniti dichiara che a chi non firma potranno essere preclusi i porti, il leader leghista si spinge a chiedere il sequestro di queste navi e chiede un blocco navale a largo della Libia sostenuto in questo anche da FD. L'obbiettivo è comune, navi militari per respingere e riconsegnare nelle mani di trafficanti e aguzzini i fuggitivi, senza testimoni pericolosi come gli operatori umanitari. I respingimenti collettivi che l'Europa e l'Italia intendono praticare sono illegali ma avverranno nell'ombra mediante operazioni militari congiunte, in assenza di soccorse aumenteranno solo i naufragi di chi riuscirà a forzare il blocco. Tante altre vittime di cui questa Europa e questo governo debbono ritenersi politicamente responsabili. Rifondazione comunista, con i tanti e le tante antirazzisti del paese, non resterai in silenzio. Noi non saremo complici dell'ennesimo crimine. Tante altre vittime di cui questa Europa e questo governo debbono ritenessi politiche, non resterai in silenzio.